Ho iniziato a lavorare fin da piccolo nel locale di famiglia in provincia di Verona e da lì sono seguiti ovviamente gli studi presso la scuola alberghiera e poi dei viaggi di lavoro e di studio per l'Europa arrivando a quello che è stato poi forse la punta di amante della mia esperienza vincendo un concorso mondiale di Singapore nel 2005. Treviso è una città piccola ma una bomboniera molto coccola ed è anche una realtà internazionale che offre molte possibilità sia nel campo ristorativo che nel campo del beverage. Treviso mancava un locale dedicato alla miscelazione e così nasce Clock Room. Al Clock Room non serviamo vino al bicchiere, unica eccezione fatta per il Prosecco Doc. Non abbiamo una semplice cocktail list ma dei professionisti in grado di interagire e di intuire i gusti dei nostri clienti. L'ultima nostra creazione si chiama Bubbles Rhapsody ed è un drink che respira il territorio ma con note ovviamente internazionali. La ricetta è composta da un estratto fresco di ananas chiarificato, spremuta di limone, miele agrumato e della mentuccia fresca balsamica. Shakeriamo energicamente tutto insieme e una volta filtrato tutto in coppa chiudiamo con l'eccellenza del territorio, il Prosecco Doc. Ciao! 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 Grazie a tutti